Abre il giacazzo di porta a diavolo, caso Dio boh, ma sei ancora qua, tu? Dio boh, e mi sono fatto tutto il giro dell'ina Eh, Maxi, ma ti stavo aspettando, cazzo Guarda che difficile il suo gioco di merda, eh Eh, lo so Ma che cazzo Aspetta, vieni qua Tsh, ados, vieni qua Tica a me Diamo, aspetta Che cazzo, aspetta, ma vaffanculo Uh, tu sei di merda Allora, vedi a cosa mi dai Ti do il remo, ti do Ma non lo voglio, vaffanculo Non mi rifiutato Scusa Oh, c'è no, diecimila di remi Oh, ma seguiamo la strada, come ci faccio la storia questo è un posto cazzo c'è anche per il venuto di quattro aveva segura storia o stati insieme per favore per favore di un marasto schiaffeggiando a non c'è un pezzo del deline vedi di quattro e sono svegliati 2 andiamo 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 e dove dove vado un po' di ci muore bomba a ma di addormentarli ancora che si svegliano ora muori dai lontani da 1 arrivano scuartato due ore fa lontanato che si sveglia per favore ho finito un po' di un cuore infezione si è le due dai caldi scusate no 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 vai via muori che boh ma la stamina da 2 in un secondo oh cacchio cioè ma scusa prima riuscivo a tirare il calcio con ecco oh aiuto stai morendo dove stai c'era qualcuno che alzina dietro di me muoviti andiamo si 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 gli stava inseguendo un orso va bene andiamo c'è un altro orso oh ma da dove viene sta qua ma da dove vieni maldrappona c'era questo che ci stava oh ti vedete tu la macchata bah andiamo questa mia vai prendere mutandina mutandina perchè vedi qua prendi boxer un po' di coca cola cazzo a me non mi ha lasciato un cazzo cazzo a me non mi ha lasciato un cazzo cazzo a me non mi ha lasciato un cazzo capito che nabu dai vieni con noi ci divertiamo un piccolo oh cos'è qua dai te domanda faccia una banana di legno una banana di legno un po' di buongiorno facciamo polizia buongiorno buongiorno ehi buongiorno buongiorno la mia mia un caffè grazie ci sono solo bevande di merda tipo cazzo a me non mi ha lasciato un po' di cazzo a me non mi ha lasciato un po' di per chi di quello è lo schifo svegli un po' svegli ma se io raccoglio un bello col culo il bello col culo che arriva anche a te se raccogli test ma boh della roba strana c'è tipo i nastri vai via ciao bullo no si vede le porte allora dove c'è da andare perché siamo venuti qua io poi che ti segui ma non so no ma perché c'è da riandar giù ah no dovevamo andare lì a prendere il nastro oh c'è qualcuno qua dietro oh via 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 io scappo e cioè capisco che in questo gioco ci sia da uccidere, oh però c'è no no eccomi mamma dai ora mio il diamo non è male dai come si chiama poco non coltello è bravo troppo chiesto c'è il volo prende coltello un po' di guardare guarda vieni a vedere per te e giù per la scala per te che si aspetta no cosa mi schiavi 360 per questo fallo tuo ti vuoi così poco voli di corre 360 o o dove vai gabry c'è da di qua perchè tu non hai ma che parola di qua via del primo gli amri la seconda da andare da stitizzi dentro corte c pericolosi 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 sto posti no 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 chiudere dietro sottose di un uomo pericolosi ma che dobbiamo fare dicendo abbi se fatta bravo ecco In attesa di una mazza E adesso? Ah, devo parlare di nuovo Progetto mazza chiudata Ok, ready to go, there again Allora, raggiungi la stazione del rissoccorso Che dice? Non lo so Tu stai facendo la missione, sei convaino alla missione Sì, sì, vabbè andiamo Vabbè, andiamo Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Qua della spregge c'era anche io, Tobi Che ci sono gli zombie nei cessi I zombie? Nei cessi Ah, ok, vabbè, cagano anche loro Eh, buongiorno Oh, no Merda Che c'è? No, no, ho sbagliato, Bullo, non accettare Ma non so che cagano Con questi viti Ecco, guarda qua, Bullo, vieni qua Arriva, arriva, arriva Spang Mo Abre, abre Pri ultimo Apri ultimo Apri questo Nullo Apri questo C'è un' anche qua albergo scondino stigua non mi no ma che prende tutto tutto un tirapugno gli abrigo riporto di amore colpito.it e terragi o se vuoi scarlete lo scambio per ovvio che c'è qua bevane energetica o progettivo per chiedere o non raccogli un cazzo di colpa mia maratoneta o cosa trova uomo o ma è tutto quello che vuole purtroppo remo rovinato ma che cazzo fa ma ti vuoi muovere notte se cambiando via che cazzo fa ma non è un bagno un camerino porca troia evitore per ieri due per te schiacciare per rischio di schiacciato io faccio le borse chiamare il volo ieri o chi è che sta morendo andiamo ad aiutare oh mi viene o d'aiutare ah ma eri tu che hai urlato oh ma oh buvo si tratta di un'arma dimmelo che me la prendo anch'io si me la prendo anch'io l'arma perché non ho più armi oh oh ma ma non c'è da andare di là ah no devi fare il giro siiii e li gabri prende tutte le bottiglie alcol di qua alcol di là o lasciami qualcosa eh no lo devi prendersi oh io sento uno zoom qua dietro oh ah era davanti via via te li lascio quelli te li lascio molto volentieri dammi la roba aspetta che prendo la mazza grazie no ma che la ventola grazie soccorso bevanda grazie apriamo qua vediamo cosa c'è oh bastone debole no lo voglio io dammelo no prego io dai gioco di merda andiamo sopra è già preso allora voglio vedere cosa se si può aumentare ma non continui e mi prendo o stai fermo che la tua porta di quanto visto eh per te e poi mi chiede dentro sto buffo andiamo aspetta dove sei ti muovi mano mia mano mia bambolo no ho fatto un barbagneto nella colonna acqua ok 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 vieni vieni nico ciao ok 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 ah è quello dentro mazza no ho finito la cammina oh va qui oh guarda dio un po' zombie oh ma non sento la morta sta zitto madonna popolo un po' ci scuola ha giunto un po' eh resti morto mi and gathering in supposito che il faro tuo wad sport sollevoli testa ma il mio prezzo è una cosa che mi ha detto da un po' bene andiamo do 4 ha be sicuro o ben negozio da di tutto computer dammi computer esamina batteria wow o cazzo ci facciamo la batteria del computer mi dai qualcosa anche a me oh ho preso i dati ah dai anche a me oh alle di merda dammi dove sono le weapons ah quello che voglio vai ah ormai già fatto già derubato oh ti posso qualcosa vediamo cosa abbiamo qua allora armi 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 ah puoi ripararle o potenziarle cosa faccio? portarlo da cucina bastone allora potenzia modifica ripara ma posso solo ripararli io? ah no posso ripararli no devi andare col menu al 1r1 allora ah potenzia bastone potenzia per 17 dollari l'ho potenziato al massimo il bastone quanti soldi ho? 500 dollari vai vai compra tutto no come possibile potenziare oggetti danneggiati allora prima di tutto ripariamoli rigavere number one che c'hai? oh ho finito i soldi ho potenziato anche il coltello io ma te l'ho chiesto boh io li ho potenziati tutti e quattro vaffanculo no ho finito i soldi andiamo andiamo wow guarda che supermazza io se vuoi dove? oh c'è cestino con qualcosa vediamo chiodi ma che se ci faccia un chiodo un attimo un attimo un attimo io uso il coltello eh amico tutto posto ok questo è ma oh sembra non c'era una bad day una bad day una bad day una bad day godo? fatti ammazzare strozza assoluto perchè mi dai pie se non faccio niente oi amico ancora viva? allora andiamo ad aprire i bagni qua anzi io volevo fare la missione per aprire ah ah ma fa culo se a me mi sono toccato il cazzo di aprire i bagni trovo suddito i bagni vediamo se trovo qualcun altro qua oh no qua è qua oh no nessuno no l'ho trovato già di la vabbè dai andiamo a fare la missione ah le basse c'è di boh perdiamo più tempo a raccogliere la roba oh cazzo dove è oh oh è slettere delvary no oh che bullo bubo ti chiede delle palate di bubo no l'ho piegato la pala oh aspetta aspetta bullo aspetta 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 che arrivo oh big money from the portfoglio of someone andy andyale chi se ne frega tanto il posto uguale aprire Sì ma tu mi rubi tu Cioè non mi riesci a prendere niente Basta che prima inquadrata Oh Faccio un po' di gente Oh io amato questo E quello Oh 5 metri di volo Usa il lettore Sono ancora vivi? No Ok Allora Devi andare di nuovo Ma qua le missioni come finiscono? Cioè non Eh dopo riporti Ritorni lì del Riccione Oh big money Oh big money Ah ecco qua c'è da passare Ti Ah mi ricordo Sono salito di livello Ah mi frega un cazzo che sono salito ma non è che è? Sopra di sfidenza Come faccio a farci? Oh ah lei sta morendo eh? Non ti dispiace? Aumenta il danno Aumenta il danno Aia ma che palle c'è la millesima volta che mi buttano via Ecco bravo Mentre io mi bevo tutte le coca cola che ci sono al giro Ah però che culetto Eh guarda qua Che roba Fatta far così il bull guarda Eh Guarda Eh Stai vedendo il filmato tu? Eh certo Che bello Ma questo è big mostro Oh Big ricchie Lanciagli la dosso Lanciagli la dosso la tasca Questo era il bodycats Oh lanciagli la scarpa No lanciagli la tua Oh cazzo Oh cazzo Oh non ho armi? Ho tolto tutte le armi? Grazie bullo per aiutare Aia Oh cazzo Con un'arma d'impatto Oh proie Perché gli lanci le armi? Ho tolto tutti col coltellino Vai Aia basta Decima volta che mi butto a terra E' una coca cola burro Ha rotto caccia Capo di squadra Morto eh Tirode Tirode Dai andiamo a vedere cosa c'è qua dentro No vedete Vedi mi devi Ricamare in una barra Cazzo Il cameraso Perfetto Perché c'è qua Il ramo E' stato un'altra Certificazione Il ramo Il ramo Il ramo Ale vieni su Cos'è? Oh Se uno Faccio qualcosa qua Bullo Oddio chi sta arrivato? Ahia Ale vieni su No vieni su Bullo c'è un giro che mi assale un ciccione di merda che mi vuole mangiare oh 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 e sto morendo maratoneta oh sono morto anch'io che è stato bello che è stato bello sto portando tutti gli zombie di sopra Bruno va bene? vai vai si è salvato la oh non ho più dai uccidilo acqua il chiave è sopravvissuto ah ma sei qua tu? ma quanti remi ho? dammene uno a me bullo se vai giù vieni giù con me c'è la vita di sotto anche qua mi sa lifeguard guard guarda vabbè basta bene guarda 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 ah lo vedo ah brava brava complimenti ma dove dobbiamo andare sopra come questo? basta che finisca beh cazzo faccio ma mi sa che dovevamo andare giù c'è anche me cioè no a me no eh guarda guarda seguimi vuol dire di qua si si no son già li quelli chi? vieni vieni guarda c c c c il primo bellano te 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 dove ah no c'è una porta da aprire è un pochino tubo la maria vado dove sei io quello quello mio ciupa tutto mio ma cosa cosa dobbiamo fare oh coca cola finalmente va mi riempio di bibite le gambe si riempie di bevande analcoliche e muore basta ma dove dobbiamo andare bullo? secondo me c'è da riuscire noi siamo venuti qua ma ma oh c'è un certo qua ma io sento qualcuno zombie vabbè ma non l'ha ancora visto ah dai riusci a male intanto non c'è niente da fare qua ma basta ma bevo solo bevande ma che palle ci sono solo bevande al giro aspetta ma c'è da andare sopra non vedi che ci sono gli attrezzi lì non capisco dove ci sia da andare ah ecco allora chissà che sei a lei sei morto va bene ragazzi io sono i gabri ci vediamo al prossimo video bella 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 bella